Oggi siamo qui, tradizionale appuntamento con gli Stati Generali della Lessinia e il tema di quest'anno è la sostenibilità, che è un tema sempre più importante anche e soprattutto per la Lessinia. Assolutamente sì, è una grande occasione, un ringraziamento va agli organizzatori che riescono a mettere tutte le istituzioni attorno a un tavolo ormai da un decennio, quindi è una grande occasione e soprattutto è l'occasione per iniziare a programmare in modo sostenibile, in modo direte, in modo sinergico perché credo che non possiamo più prescindere da processi sostenibili. Se non programmeremo in questo modo probabilmente per il futuro ci saranno parecchie difficoltà e quindi è l'occasione per mettere tutti attorno a un tavolo e riuscire a programmare, lanciare delle idee, degli stimoli che possono essere di sviluppo per il nostro paesaggio. Grazie